Abbiamo parlato in altri video di come preparare una partita tramite il Battle Master System, quindi come piazzare i waypoint e organizzare la nostra partita. Parliamo oggi di altri tre menu importanti del menu a tendina della Battle Master System. Il menu di configurazione del gioco, configurazione dell'arma e arbitraggio della partita. Tramite questo menu è possibile configurare a distanza le attrezzature dei partecipanti alla nostra gara, oppure configurargli il gioco, l'arma o addirittura effettuare l'arbitraggio, quindi bloccare i fucili a distanza, farli ripartire e così via. Partiamo dal menu di configurazione. Il menu di configurazione ci consente quindi di configurare una serie di parametri che sono quelli classici che noi abbiamo per il nostro sistema. la possibilità di inserire la fiammata del flash di sparo, la possibilità magari di ricevere le cure, di curare se stessi e così via. Selezioniamo quindi la partita che stiamo gestendo. Avremo in questo caso soltanto un dispositivo perché abbiamo un solo dispositivo di prova, un solo dispositivo di prova che stiamo utilizzando. Supponiamo di volergli inviare quindi a distanza le nostre configurazioni. Una volta scelti i parametri, non ci toccherà altro che fare che selezionare i dispositivi, in questo caso uno soltanto, e cliccare su salva configurazione. Dopo poco tempo, quando il tick tracker si connetterà, riceverà i segnali e flunerà a distanza la nostra attrezzatura. Sessa operazione può essere fatta anche con il configurazione arma. Configurazione arma, quindi anche in questo caso selezionerò la partita che sto scegliendo, sceglierò il fucile che voglio inviare alla mia attrezzatura, il dispositivo, e cliccherò su salva configurazione. Anche in questo caso il sistema da solo interrogarà il server, dopo poco si aggiornerà, quindi aggiornerà l'attrezzatura a distanza. Ultimo menu, arbitraggio della partita. In questo caso io potrò impostare una serie di parametri, come effettuare eliminazioni, respawn, fine gioco, inizio gioco. Supponiamo a questo punto di vol dare un'eliminazione a distanza, o addirittura un fine gioco a distanza. Selezioniamo sempre la nostra partita, il dispositivo e il comando da dare. Clicchiamo su salva configurazione, e il nostro dispositivo dopo un po' di tempo prenderà il segnale e andrà in fine gioco. Tramite questi menu, quindi, noi potremo controllare a distanza sul campo di gioco, quindi da una postazione remota tutte le attrezzature che parteciparanno alla nostra gara.